Con una serie di accordi con i consigli notarili delle Marche, l'Università di Macerata ha dato attuazione alla Convenzione Quadro che consente di svolgere i primi sei mesi di tirocinio per l'accesso alla professione notarile già durante l'ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza. L'Ateneo Maceratese ha sottoscritto accordi con i distretti di Macerata e Camerino, Ancona, Ascoli Piceno e Fermo e avviati i contatti con Pesaro, si tratta di un primo passo per valorizzare la formazione relativa alla professione del notaio, meno visibile rispetto ad avvocato e magistrato che porterà alla realizzazione anche di seminari trasversali. Questo accordo intanto serve agli studenti in modo particolare per far conoscere ancora di più il mondo notarile e la figura del notaio che è una figura molto complessa. Attiveremo dei seminari, dei corsi formativi per far conoscere ancora di più le materie che serviranno poi per la professione del notaio e anche in prospettiva si possono anche creare dei moduli di diritto notarile come in effetti è emerso nel corso della conferenza stampa con gli accordi che abbiamo stipulato. Anche Benedetto Sciapichetti, presidente del consiglio notarile di Macerata e Camerino, batte sul tasto della poca visibilità di questa nobile professione che insieme a lungo percorso è in qualche modo in calo negli ultimi anni. La speranza è anche quella tramite l'università di poter un attimino, direi anche, propagandare la figura del notaio che è molto, secondo me, ancora poco conosciuta, è una figura, è una professione veramente affascinante, tutti pensano che sia statica, invece molto ma molto ma molto dinamica, però è una professione che è nascosta anche, dico una banalità, anche ai media, non c'è mai un notaio in una tavola rotonda, anche nelle fiction, sembra una cosa stupida, però vedi sempre la figura del magistrato, dell'avvocato ma del notaio, quindi è molto poco conosciuta. Da qui quindi la crisi di queste vocazioni. Chiudiamo ricordando che gli studenti che potranno anticipare la pratica notarile dovranno essere in regola con gli esami e frequentare lo studio stesso per almeno 200 ore nell'arco dei sei mesi, per almeno 8 ore e un minimo di due giorni settimanali.